Dopo anni di polemiche e dissapori causati dall'ex in comune Fabrizio Corona, Belen Rodriguez e Nina Moric sembrano aver sotterrato l'ascia di guerra. Le due sono state paparazzate insieme alla taverna Neme Core, famosissimo locale di Capri, mentre si scambiano baci e sorrisi affettuosi. Sul palco insieme sono insolitamente complici per la gioia dei presenti. Grazie per la visione!